Buongiorno ai lettori del piccolo, vi mostriamo la situazione in diretta in questo momento nel centro di Trieste, nel primo giorno in cui è stata allargata a tutta Italia la zona protetta. Eviteremo di entrare nei negozi per non avvicinarci troppo alle persone e vi ricordiamo che sul sito del piccolo è possibile scaricare l'autocertificazione che vi può essere richiesta dall'autorità nel caso doveste raggiungere i posti di lavoro o raggiungere le situazioni per raggiungere luoghi di necessità. Adesso iniziamo il giro per la città. Grazie a tutti. 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 a tutti.